ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft oggi giocheremo a un server di nome www.hub.net vi lascio l'ip in descrizione se volete giocarci e anche qui a destra sto usando lunarclient perchè ho scoperto il mio vero client dei sogni cioè lunarclient e quindi niente direi di iniziare un server per la pratica che ci gioco da già un po' ma non ho mai portato nel canale quindi vi spiego un po' come funziona cliccate questa bussola tra l'altro questo è coming sound fate bv training e ubv training e poi cliccate sulla spada con tasto destro qui ci sono tutte le modalità la mia preferita è pearl fight perchè sono veramente un po' molto bravo con questa che è praticamente sumo ma ci sono le enderpearl e i blocchi e io sono il maestro degli enderpearl clutch quindi sapete che riuscirei a salvarmi quindi bene direi di provare intanto aspettiamo che qualcuno entri su oh mio dio ma non entra nessuno oh 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 appena c'è scritto in cui entro intanto io taglio questa parte naturalmente ok eccomi qua siamo qui questo tizio non l'ho mai non credo di averlo mai visto o no uno youtuber oh ti ho battuto signore come vedete sono molto bravo in questa modalità ok mo cosa vuoi fare oh no bam enderpearl enderpearl oh 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 raga avevo clacciato un botto se non avessi lanciato se avessi lanciato l'ultima enderpearl in un modo diverso ci sarei riuscito vediamo ah niente raga perchè l'enderpearl è arrivata così in ritardo che cacchio fa tanto so cosa vuole fare faccio quest'enderpearl così wow no raga cos'è successo asomia dai è troppo difficile sta modalità quando ti trovi sti pro allora lo sapevo oh che sedere ma dai no oh mio dio ok ok wow cosa l'avete visto tutti che mi ha beccato attraverso i blocchi cioè l'avete visto tutti vabbè non ho capito come ha fatto allora facciamo un'altra partita in pale fight perchè mi piace tanto e poi magari cambiamo non lo so questa modalità è una delle mie preferite o sto qua ha rotto questa tecnica del cavolo oh mio dio raga mo l'enderpearl lo tipperà da ma io faccio così no raga ma dai l'enderpearl no no raga sto qua lo odio perchè il brutto di questa modalità è che continuano a capitarti sempre gli stessi ti capisci cioè non so se avete capito ma ti capitano sempre gli stessi non c'è metodo ti capitano sempre quelli oh mio dio raga wow mi sono salvato per un pelo ma faccio così oh mio dio è dietro di me lo sapevo wow oh mio dio qui ho rischiato un botto di cadere si raga questa o pensavo si fosse salvato andando sopra ok 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 gg allora vediamo se riesce a battermi ok perfetto ah pensavo va bene va bene ok perfetto so one pearl fai sai tranquillo ci sono già io wow wow no raga no vi prego vi prego no sono scemo ho lanciato malissimo l'enderpearl vabbè ci sta ok faccio così perchè per lanciare l'enderpearl oh ma dai ma che pizze perchè è arrivata adesso la mia enderpearl io lo chiamo ritando di enderpearl questi errori wow ah oh mio dio raga oh mio dio oh mio dio ok siamo 1v1 se cado adesso ho perso vediamo chi cadrà ah io uso la mia tecnica di fare così e mo lui se si tippa qui è morto perchè io so cosa fare ok scappo così no no raga ma l'avete visto tutti voi che ho lanciato l'enderpearl giusto perchè perchè fa schifo sto server a fare ste cose ma dai dai che pizze non mi è andata l'enderpearl vabbè spero mo di capitare con qualcuno di diverso perchè questo qua mi ha rotto un po' le scatole cioè ecco la cosa brutta del di stare in questa modalità che tutti sono sempre gli stessi è questo il brutto non vi capita mai qualcuno di diverso in questo server se fate pal fate sempre gli stessi vediamo lo sapevo vedete vedete che sono sempre gli stessi gli stessi infami che ero un po' le scatole ok devo aspettare prima ecco cosa cosa che che no raga questo che questo cheater l'avete visto che knockback mi ha fatto raga ma lo vedete che questo cheater è città palese raga per forza mi fa dei knockback che neanche il più pro del mondo li fa oh raga questo cheater è fortunato da quel che vedo anche e vabbè dai però questo è città è fortunato vediamo cos'altro ha oh raga oh vedete che fortuna proprio la fortuna più fortunato del mondo ma questo ha rotto le scatole poi mi fa dei knockback che non mi fa nessuno lo vedete quanto mi spinge cioè non può spingerti così dai bo sto con questo tizio mi ha rotto le scatole con i suoi cacchio di hack godo godo vediamo se vola fino vediamo se vola indietro cioè allora cosa raga 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 ma quello dai ma questo città però non ha lanciato render per lì l'abbiamo visto tutti stavolta l'ha lanciata ed è pure fortunato dai l'enderpelle non è arrivata là com'è che non è arrivata però perché l'enderpelle in sto server fanno schifo oh godo non cadere adesso non cadere adesso oh mio dio raga stava per cadere l'enderpelle tipo ora anche io meglio se la lancio mo oh 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 attenzione oh no no raga ma che probabilità c'erano che l'enderpelle andava là ma dai deficiente schifoso che probabilità c'erano spiegami guarda guarda che va sopra l'altro e mo io faccio così oh oh scappo no raga no raga no 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 oh godo come un riccio 1v1 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 ok lui si è lanciato qua io mi lancio subito qua ok l'ho spinto o se non ci credo che fortunato fortunato che più fortuna non c'è non c'è più enderpelle dai ma questo è troppo fortunato gli arriva l'enderpelle ma come fa ad arrivare l'enderpelle in un momento esatto questo mi ha rotto le scatole dai mi ha rotto le scatole sto tizio che continua a cittare vedi sono continua contro di lui cioè ma dai posso capitare contro qualcun altro invece che sempre contro di lui oh sì sì lo sapevo cosa vai cadi ok godo no non ti puoi salvare ciccio non puoi non puoi cioè dai ok 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 perfetto l'importante è che ci stiamo divertendo oddio non troppo sempre con sto tizio però mi sto divertendo abbastanza oh oh yeah raga ormai la tecnica ce l'ho la prossima volta devo andare la così ok perchè ora lui saprà dove sono e e a o i e i o da 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 no raga oh ah oh dai ti prego l'enderpelle ma l'enderpelle raga l'enderpelle ditelo che sto server fanno schifo ma dai se c'è qualcosa da migliorare sono sicuro l'enderpelle sicuro ah lo sapeva che cacchio ma ha rotto le scatole sto tizio del cacchio salve ok perfetto oh hai rotto le scatole hai rotto le scatole 2 hai rotto le scatole 380 fortunato schifoso wow anch'io sono un po' fortunato no ho droppato le enderpelle porco schifo cosa cacchio fa no raga dai oh dai cadi brutto deficiente allora ho una sola enderpelle ah c'è un pillare in alto così brutto schifoso dai sto deficiente dai ma non ci credo brutto deficiente schifoso cadi cadi perchè non cade aiuto porco schifo vuoi cadere cadi ma non riceve knockback questo ma che knockback esiste oh rogo facciamo un'altra modalità perchè questo qua mi ha un po' rotto le scatole aspetta aspettiamo che se ne vada dal inque perfetto aspettiamo un altro così almeno non me l'ho capito più mi ha rotto un po' le scatole sto qua veramente ma giuro che sia ancora quello ok ok perfetto eh facciamo altri per fight io adoro per flight per fight perchè comunque anche se perdo mi diverto alla fine ah oh mio dio oh dai 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 ti prego perchè le enderpelle arrivano sempre in ritardo ma dove sono finite le mie enderpelle poi le altre enderpelle che ho tirato oh oh salve mantellino di migrazione c'è il mantellino della migrazione si l'ho fatto cadere ok non si può salvare teoricamente sarei sbalordito se si salvasse secondo me quando cadi devi tirare l'elderpelle addosso e cercare di continuare a tirare le altre tue allora vediamo 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 continuiamo così bravo bravissimo ha sbagliato con le enderpelle ok bene bene un vantaggio in più so baby cream ah cadi 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 oh mio dio no raga ma dai non mi ha fatto tirar la cosa non mi ha fatto cacchio allora oh dai 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 ti prego no che fortunato deficiente schifoso dai perché così fortunato perché che cacchio fa oh allora 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 dai 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 ma le enderpelle dove sono andate raga le enderpelle in sto server fanno schifo mi stai prendendo in giro vabbè 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 Riproviamo Questa mappa la vinco sempre Cioè non sempre però è bella sta mappa Di solito molte volte vinco Oh porco schifo Che cacchio fa? Complimenti adesso sei morto Raga consiglio Se volete nel header per clutch Non sbattete mai contro quell'albero Wow Ok no cosa? Cosa? Ma fanno schifo l'endropel ma senti Ma che cacchio è successo? Perché non ha funzionato? Raga l'avete visto tutti? Cioè l'avete visto tutti? Ok Wow Allora scappiamo per ora Poi Dov'è? Ah è caduto Ok Non me l'aspettavo Il mio metodo è andare sempre qua in questa mappa No dai volevo fare una cosa non mi è riuscita Cacchio vabbè Come sempre facciamo così Mo lui fa così e io faccio così Bam Easy Ok Adesso teoricamente se io lo uccido solo una volta Ho vinto Quindi Mo lui fa così E' caduto da solo Perfetto Non è caduto Ah vabbè è caduto comunque vero? Mi ero dimenticato che sti blocchi dopo un po' vanno via Vabbè vabbè GG abbiamo vinto Allora Quanti minuti siamo di registrazione? Siamo a 18 minuti di registrazione Allora ragazzi sapete cosa vi dico? Io vi lascio qui per questo episodio è tutto Lasciate un like Iscrivetevi Cerchiamo di superare i 9 like per questo video E noi ci vediamo in un prossimo video Video Bleh Video Adios